salve a tutti e benvenuti al caffè di sipario io vi dico subito che il caffè di sipario voi lo conoscete bene a memoria perché ormai è diventato un programma famoso anzi volevo dire un'intervista famosa dove facciamo sempre alla terrazza del piazzale michelangelo virtualmente sempre con gli ospiti tutti fiorentini ma questa volta sono sempre nuovi arrivi quelli arrivati ora freschi freschi allora cominciamo subito a presentarci già mi conoscete per tutta la toscana io sono gabriele costanza e io sono francesca ristori per chi ancora non mi conosce ascolta francesca abbiamo portato un ospite atletico che fa lo sport sì è una femmina è una femmina come si chiama dimmelo te gabrie io lo so come si chiama c'ha un cognome da numero vittoria 39 ma il 40 non c'è non ci arriverò benvenuta vittoria buongiorno piacere di conoscerti piacere allora prima di cominciare in ogni puntata ci diamo sempre delle regole bene la prima è di darci del tu e la seconda è di dire sempre la verità mai delle bugie bene se sei pronta per cominciare dimmelo prontissima tu sei un atleta giocatrice di softball che gioco è il softball e quali sono le differenze tra il baseball e il softball allora sul fatto che sono un atleta direi sono stata un atleta la differenza tra il softball in italia viene definito come il baseball femminile anche se ci sono delle squadre maschili però di solito è giocato dalle ragazze la differenza più evidente è la grandezza della pallina la pallina da baseball è molto più piccola la palla da softball è un po più grande potevamo portarne una e non ce l'abbiamo il campo il campo da softball è più piccolo e il campo da baseball è molto più grande poi ci sono delle differenze particolari nei ruoli il ruolo del lanciatore che ruolo diciamo più importante nel baseball è la differenza maggiore è il movimento di lancio nel baseball e la pallina viene lanciata da sopra nel softball invece si ha un tiro da sotto e la la palla viaggia veloce sia nel baseball che nel softball la distanza essendo il campo più piccolo la distanza minore il tempo di reazione tra lancio e la battuta è molto più basso nel softball quindi ci vogliono riflessi molto rapidi poi diciamo come si svolge il gioco è abbastanza simile sono nel softball si si gioca su sette riprese che si chiamano inning nel il baseball invece su 9 9 inning e una squadra in attacco una squadra in difesa la particolarità del baseball e del softball è che il battitore gioca contro tutta la squadra è uno che gioca contro tutta la squadra avversaria e non è facile come gioco non è molto intuitivo nel senso che devi giocare a calcio e sai che la palla deve entrare dentro la porta il baseball non è semplice vero la francesca è molto esperta ma la palla la devi prendere nel guanto la palla va presa col guantone che di solito viene tenuto nella mano sinistra per chi è destro e che la mano di tiro è quella che determina se sei destro o mancino e le attrezze sono il guantone la mazza che può essere di legno o di alluminio a seconda anche delle serie del livello di gioco e questa pallina appunto che è una pallina di con un'anima di caucciù ricoperta di filo tutta rivestita di filo di lana e poi rivestita di un di pelle con delle cuciture evidenti e quindi c'è la pallina ma c'è un'altra cosa da mettere oltre al guanto e la mazza il casco il caschetto per quando si va a battere ci vuole il caschetto obbligatorio per ripararsi da eventuali pallate nella testa anche il materiale da ricevitore c'è la maschera c'è presente di solito il baseball viene conosciuto per le strisce di fumetti sì Charlie Brown di Snoopy Snoopy che c'è la maschera la pettorina ecco qua qui si vede maschera guantone e pettorino sì e schinieri vai Francesca a quanti anni hai cominciato a giocare a softball ho cominciato a giocare nel 60 avevo 12 anni nel 69 nel 69 brava abbiamo svelato la mia età in che squadra hai giocato giocavo a firenze ho cominciato a firenze e poi ho giocato a roma per tre anni ho giocato a parma e queste sono state le squadre di club dove ho giocato e poi ho giocato in nazionale sono stata convocata in nazionale per varie manifestazioni quante squadre ci sono nei campionati italiani di softball questa è una buona domanda nel campionato di serie a attualmente perché poi cambia un po tutti gli anni attualmente penso siano 10 squadre poi abbiamo una 2 poi abbiamo la serie b c nello specifico non saprei dirti adesso la serie a la serie a la serie a è la serie d'eccellenza la poi la 2 vorrei fare una domanda a te quanti anni avevi quando sei andata per la prima volta in nazionale softball la prima volta è stato avevo non avevo neanche 18 anni avevo 17 anni e mi hanno convocato per cioè il vero impegno importante poi avevo partecipato a dei tornei però l'impegno importante sono stati mondiali del 1974 nel connecticut negli stati uniti è stato il mio primo mondiale ed ero la giocatrice più giovane della squadra perché aveva c'era un'altra ragazza del mio stesso anno del 57 però io sono di settembre lei è di gennaio per cui ero la più giovane ma eri una ragazzina o adulta sai 17 anni i 17 anni di allora erano un po diversi dei 17 anni di adesso eravamo ancora più bambini però non so 17 anni ero già abbastanza diciamo adulta essendo arrivata in nazionale quante volte si allenavi alla settimana? dipende dal periodo dell'anno anche tutti i giorni anche tre volte al giorno mi sono allenata periodi di raduni sempre in vista di impegni con la nazionale è un impegno importante sì sono stati anni molto impegnativi per quanto mi riguarda nello sport di solito erano tre allenamenti settimanali di norma poi in vista di impegni o di raduni della nazionale ci si allenava tutti i giorni e ti dico anche tre volte al giorno il softball è uno sport conosciuto qui in Italia e che cosa viene fatto per promuoverlo? purtroppo ultimamente non viene fatto molto secondo me ha avuto una flessione il gioco del softball prima e per assurdo anche il baseball purtroppo se prima quando giocavo io era molto più pubblicizzato c'erano i giornali anche locali ma insomma ne parlavano molto di più rispetto adesso e non saprei dirti perché se è un problema economico perché ci sono adesso meno soldi per le squadre per gli sport minori se l'interesse è calato però devo dire che adesso è meno pubblicizzato se ne sente parlare molto meno rispetto a prima i giocatori e i giocatrici di baseball o softball guadagnano bene? ci si può vivere con il gioco del softball? in Italia? in Italia non credo proprio quando tutti lavorano infatti sono tutti non so se a livello di serie A1 di baseball qualcuno ci sono degli stranieri nell'IBL dove sicuramente fanno soltanto i professionisti però nel softball credo veramente si potranno contare sulle dita di una mano chi può vivere di softball in altri paesi senza altro vivono e vivono molto bene negli Stati Uniti nel Giappone ci sono dei livelli molto alti dove guadagnano veramente tantissimi soldi esatto ma quando tu giocavi già lavoravi? no perché appunto giocavo ho anche lavorato perché ho giocato per tanti anni quando ho iniziato ero una studentessa e poi ho continuato a giocare che avevo già mio figlio Tommaso per cui ero già una il cugino e lavoravo quindi sono stata giocatrice studentessa e lavoratrice anche hai degli anedditi da raccontarci sulle partite o sulle tue compagne di squadra? questa domanda così senz'altro ci saranno fammi pensare cioè aneddoti particolari adesso non mi vengono in mente emozioni tante emozioni tante mi ricordo appunto quando il primo mondiale che ho fatto quando è suonato l'inno io non credevo che mi sarei emozionata invece è uscita la lacrimuccia c'erano tantissimi italiani che vivevano in quelle zone nel Connecticut vicino New York ed erano orgogliosissimi di avere una squadra italiana loro e anche noi di giocare di rappresentare l'Italia per cui venivano a chiederci autografi parlavano in dialetto più che altro era un misto fra lingua inglese e dialetto italiano credo è stato veramente emozionante ora c'ho questa domanda per te facile tu sei anche insegnante di educazione fisica come mai hai deciso di fare l'insegnante di educazione fisica e perché hai fatto l'ISEF per poter insegnare? dunque perché ho fatto cioè venendo dallo sport avendo sempre fatto sport fino da bambina è stata quasi una scelta non dico obbligata perché nessuno mi ha obbligato però è stato un percorso diciamo quasi segnato e ho fatto l'idea era quella di tramandare un pochino la mia esperienza nella scuola ai ragazzi poi mi è sempre piaciuto lo sport e allora adesso c'è la facoltà di scienze motorie prima si chiamava l'ISEF e l'istituto superiore di educazione fisica e quindi mi sono iscritta all'ISEF ho finito i miei studi e sono entrata nel mondo della scuola dove tuttora ci sono insegno qua vicino al liceo Machiavelli che è qui in Borgo Santo Spirito Capponi Capponi si chiamava Capponi adesso si chiama Isis Machiavelli però c'è Machiavelli Capponi ci tengono molto anche i ragazzi a chiamarlo Capponi la sedia di Capponi è quella sul Ponte Santa Trinita e poi c'è un'altra la sedia principale via Santo Spirito ma il Ponte Santa Trinita è quello che ha le quattro statue o le quattro stagioni che vedo sempre io esatto bravo esatto essendo insegnante delle superiori che rapporto hai con i tuoi allievi eh sai sono tanti gli allievi quindi ci sono rapporti diversi e a me piace mi piace molto stare con i ragazzi non so quanto a loro piaccia stare con me però è una mi piace è una delle cose che mantiene la gioventù si mantiene la gioventù ma mantiene vivo anche l'interesse nel mio lavoro più che altro il rapporto con i ragazzi e l'educazione fisica è una materia in cui il rapporto è diverso avete fatto anche voi la scuola l'insegna anche l'educazione fisica è qui non voglio dire l'amico però è quello che crea un po' meno problemi non ci sono compiti interrogazioni anche se al liceo facciamo anche teoria però principalmente è una materia pratica quindi siamo anche un po' i confidenti dei ragazzi siamo è un rapporto diverso forse con gli altri rispetto agli altri insegnanti io l'ho sempre amata educazione fisica a scuola sei uno sportivo sì ma oltre a educazione fisica facevo anche altre materie immagino educazione fisica ti piaceva più di tutte le altre? sì a me piaceva educazione fisica eh bene sì ora ho questa domanda per te come ti vedi rispetto ai tuoi ragazzi severa o permissiva? sono abbastanza severa sono cioè ci sono le regole nella scuola come nel mondo nello sport anche e le regole devono essere rispettate sì ogni tanto ci sono momenti sì sì ci sono momenti in cui ci divertiamo in cui cioè le regole non è detto che non possono coabitare con il divertimento però severa nel senso ci sono delle cose che devono essere rispettate mai fare tanto balcano eh confusione non bisogna prendere cioè bisogna rispettare appunto una certa disciplina e abbiamo una grossa responsabilità è una materia dove si può ci si può anche far male quindi bisogna essere sempre rispettosi delle regole delle persone sì eccomi qua una volta usciti dalla scuola tu mantieni rapporti con i tuoi alunni con qualcuno sì con qualche alunna qualche alunno anche grazie a a facebook sono stata contattata da da alunne di tempi passati e quindi mi fa piacere sapere quali sono i loro percorsi se eh alcuni hanno già figli sono già entrate nel mondo del lavoro sì con alcune siamo rimasti in contatto bene cara vittoria 39 mi sembra che dobbiamo chiudere lo sport dobbiamo chiudere la trasmissione ma non temere ci danno un altro minutino per l'ultima domanda che noi te la faremo di chi la vuole fa l'ultima domanda allora la faccio io parla tu essendo sposata con un figlio come hai fatto a conciliare la tua vita come moglie mamma insieme a tutti questi impegni scolastici e destra sono sposata con un atleta anche lui giocatore di baseball quindi mi ha sempre incentivato sempre stimolato a continuare a fare sport ho un figlio sportivo anche lui vorrei anche dire quindi anche noi siamo sportivi siamo in una famiglia anche voi lo so abbiamo una campionessa di golf te anche giochi a golf sì quindi siamo io sempre quindi sono riuscita bene a organizzare la vita sportiva il lavoro e la famiglia facciamo un po' fatica ma insomma ci si fa ci si fa a coordinare tutto bisogna farcela eh che si fa salutiamo tutti bene bene mi sembra che abbiamo finito facciamo un bel saluto ai telespettatori che ci seguono nella nostra trasmissione Caffè di Sipario ringraziamo la nostra ospite Vittoria 39 che ci ha spiegato del softball che è la prima volta che mi capita di sentirlo bene grazie a te grazie grazie Francesca ricordatevi cari telespettatori che se volete vedere questo sport nuovo che non avete mai visto in vita vostra il softball guardatelo invece di vedere sempre il baseball magari il calcio anche il calcio eh dove si può vedere il softball a Firenze alla Sestese a Sesto a Sesto ok arrivederci a tutti ma non vi scorderete mai l'intervistatore Gabriele Ostanza bene io sono Francesca Ristori e grazie a tutti arrivederci alla prossima puntata